Mio padre era di Narbona e mia madre è di Campomolino, si sono sposati nel 1947, sono sposati a Torino. Si sono sposati a Torino, poi mio padre faceva un po' la spola, anche mia madre, stavano a Narbona loro, da Narbona a Torino, d'inverno praticamente mio padre andava a fare i traslochi, era sotto vinnelli scotto, boschetto, e mia madre faceva la domestica, però lavorava come domestica ora. Quanto stavano via da Narbona? Stavano 5-6 mesi a Torino. Io ero piccolo piccolo, sono stato sempre con mia nonna materna qui a Campomolino, a Campomolino, diciamo fino a tre anni e mezzo, poi andavo anch'io giù, e poi d'estate tornavo su. Facevo la spola un po' tra Campomolino e Narbona, però l'estate la passavi a Narbona. Beh, ne ho passate poche perché a me piaceva più stare a Campomolino.